Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere tutti i contenuti che sbloccano i vari amiibo della serie di The Legend of Zelda. Ovviamente sono compatibili come anche lo erano in Breath of the Wild, sono compatibili tutti gli amiibo esistenti, della serie di Pokémon, della serie di Super Mario, Smash, qualsiasi amiibo, sblocca delle cose, principalmente cibo e quelle cose lì. Cose particolari le danno solo gli amiibo della serie di The Legend of Zelda o comunque anche della serie di Smash, però dei personaggi di Zelda. Quindi dopo li vedremo tutti, vedremo tutto quello che sbloccano tranne due amiibo. Il primo è quello di Tears of the Kingdom che Amazon ha deciso di consegnarmelo sabato, quindi sabato aspettatevi il video in cui andremo a vedere cosa sblocca l'amiibo di Tears of the Kingdom. E l'altro è quello di Skyward Sword, sì stavo controllando, sì è giusto, l'altro è quello di Skyward Sword perché io come avete visto nel video collezione, che vi lascio qua sopra, non ho tutti gli amiibo ma ho le tessere, quella tessera lì non funziona più, purtroppo è il brutto di avere quelle tessere che ogni tanto partono, però fa niente. Vi farò vedere quello che sblocca passando da Breath of the Wild, tanto praticamente sblocca le stesse cose. Ci sono anche delle armi che vengono sbloccate in questo gioco, adesso vi elencherò le armi, con i nomi che però hanno su Breath of the Wild, non so se i nomi sono rimasti gli stessi, perché purtroppo sono ancora all'inizio del gioco, come potete vedere dalla mappa, non ho proprio fatto praticamente niente, e quindi le armi non le posso prendere. Allora, prima di tutto andiamo a vedere come si possono scannerizzare gli amiibo. Allora, bisogna schiacciare il tasto L, quello che comanda praticamente anche il braccio, e in teoria dovreste avere di default, dopo il primo sacrario dovreste avere questo qua attivo. Io adesso l'ho disattivato per farvi vedere nel caso in cui ce l'abbiate così cosa dovete fare. E' semplicissimo, aprite le impostazioni, andate sul sistema, andate su opzioni, e qua sopra dove c'è scritto amiibo, facciamo usa gli amiibo. Ora andiamo all'ok, torniamo indietro, e adesso è attiva la funzione amiibo da qua. Dopodiché, scannerizziamo un amiibo. Ok, scusate il piccolo taglio, ho dovuto un attimo entrare nel mio salvataggio personale. L'altro, quello che uso sempre, perché di là avevo già scannerizzato questo amiibo qui, quindi non mi rilascia quello che avrei voluto farvi vedere. E allora lo scannerizzo di qua, poi ritorniamo nell'altro salvataggio. Allora l'amiibo in questione rilascia Epona. L'amiibo che rilascia Epona è... Vieni qua intanto Epona. L'amiibo che rilascia Epona, stavo dicendo, ce ne sono due, sono quello Link di Smash, Link della serie di Super Smash, e Link di Twilight Princess. Rilasciano Epona non appena sono stati scannerizzati la prima volta. Un'altra cosa che vi volevo dire è che praticamente se ne proviamo a usare lo stesso amiibo, vediamo se questo qua... Sì, esatto, vedete, dice oggi non puoi più usare questo amiibo. Noi in questo caso qui possiamo fare una cosa che adesso vi faccio vedere magari dall'altra parte. Ok, adesso io ho scannerizzato un amiibo di Link, di Link's Awakening, per capirci. Adesso vi faccio vedere che... Prima andiamo a rompere tutto. Andiamo a recuperare tutto quello che c'è dentro, poi vediamo che appunto riscannarizzandolo, ci darà che oggi non si può più usare questo amiibo. Noi basta che facciamo Salva, dopodiché usciamo, chiudiamo il gioco, andiamo su Impostazioni, andiamo su Sistema, Data e ora, togliamo la sincronizzazione, e andiamo avanti di un giorno, portiamo il 17, facciamo OK, ritorniamo indietro, apriamo, ok, ho tolto il caricamento, riscannerizzandolo, adesso funziona. Un'altra cosa invece che volevo dirvi, voi potete aprire questo, lo scrigno, se non vi piace il contenuto, invece di fare quel discorso lì, potete andare su più, carica, ovviamente dovete salvare prima, caricate non l'autosalvataggio, come vedete qua ci sono parecchie autosalvataggi, caricate quello che avete salvato voi, e in questo caso potete riscannerizzare di nuovo l'amiibo, e vi darà o quello, sono randomiche i drop, quindi non è detto che vi dà quello che cercate, però se provate, però poi verrà fuori. Allora come dicevo prima, alcune le armi non le posso sbloccare, quindi vi faccio un elenco, ve le faccio vedere su Breath of the Wild, e vi dico i nomi che hanno in Breath of the Wild, sperando che non siano cambiati, penso che sono cambiati comunque, l'arma è comunque quella. Allora troviamo l'arma pura della Dea, sbloccato dall'amiibo di Skyward Sword, una spada chiamata semplicemente Spada, sbloccata da Link 8-bit, Boomerang della Brezza, sbloccata dall'amiibo di Wind Waker, Spadone della Foria Divina, sbloccato dall'amiibo di Majora's Mask, Spada di Grande Goron, sbloccato dall'amiibo di Ocarina, Spada dei Sei Saggi, sbloccata dall'amiibo di Ganondorf della serie di Smash, l'Arco del Crepuscolo, che se non sbaglio è stato depotenziato su Tears of the Kingdom, che è sbloccato da Zelda nella serie di Smash, e lo scudo dell'eroe che è sbloccata da Zelda nella serie di Wind Waker. Ho letto che c'è una mini sfida nel gioco, in Tears of the Kingdom, per sbloccare la spada pura della Dea, si può sbloccare in una sfida durante il gioco. Ok, ho cambiato location, per farvi vedere alcune cose che si sbloccano con gli amiibo, che sono temi per la paravela, chiamiamoli così. Allora, come ho detto, l'amiibo di Skyward Sword non ce l'ho, quello del trentesimo anniversario di Zelda, però so che sblocca questa paravela qua, che vedete adesso a schermo, che il nome inglese è Sword Spirit Fabric, il nome in italiano non so come sia. Adesso andiamo nel dettaglio a vedere le varie paravela che sbloccano gli amiibo. Allora, la prima è il tessuto dei Ricordi, che è sbloccato dall'amiibo di Link Arciere di Breath of the Wild. La seconda è il tessuto pixelato, sbloccabile tramite l'amiibo di Link 8-bit, quello del trentesimo anniversario. Poi abbiamo il tessuto dei Boblin, sbloccato dall'amiibo del Boblin di Breath of the Wild. Tessuto della fattoria Lon Lon, sbloccabile dall'amiibo di Ocarina of Time del trentesimo anniversario, oppure anche quello di Super Smash Bros. di Young Link. Tessuto della maschera di Majora, sbloccabile dall'amiibo di Link di Majora's Mask del trentesimo anniversario. Tessuto del capuccio Ilia, sbloccabile dall'amiibo di Breath of the Wild di Link Cavallo. Tessuto uovo, sbloccabile dall'amiibo di Link di Link's Awakening. Tessuto della principessa di Hyrule, sbloccabile dall'amiibo di Zelda di Breath of the Wild. Tessuto della famiglia reale Stinta, sbloccabile dall'amiibo di Zelda di Wind Waker del trentesimo anniversario. Tessuto della Dea, sbloccabile dall'amiibo di Zelda e Sol Canubi di Skyward Sword HD. Tessuto di Sheik, sbloccabile dall'amiibo di Sheik della serie di Super Smash Bros. Tessuto della campionessa Zora, sbloccabile dall'amiibo di Mipha della serie di Breath of the Wild. Tessuto del campione Goron, sbloccabile con l'amiibo di Daruk della serie di Breath of the Wild. Tessuto del campione Rito, sbloccabile dall'amiibo di Revali della serie di Breath of the Wild. Tessuto della campionessa Gerudo, sbloccabile dall'amiibo di Orbosa di Breath of the Wild. Tessuto Sheikha Ancestrale, sbloccabile con l'amiibo del Guardiano di Breath of the Wild. Tessuto dello specchio scuro, sbloccabile dagli amiibo di Link di Super Smash Bros. Wolf Link, o Link Lupo in italiano, e Link di Twilight Princess del trentesimo anniversario. Tessuto di Re Dracar, sbloccabile con l'amiibo di Wind Waker del trentesimo anniversario, oppure anche dall'amiibo di Toon Link della serie di Super Smash. Tessuto Principessa del Crepuscolo, sbloccabile dall'amiibo di Zelda della serie di Super Smash Bros. E l'ultimo, tessuto del Re dei Demoni, sbloccabile con l'amiibo di Ganondorf della serie di Super Smash Bros. A mio avviso, questo è il più bello. La cosa più interessante a mio parere è che viene sbloccata con gli amiibo, sono alcuni indumenti, che a quanto ho capito, si possono comunque trovare anche all'interno del gioco, ma molto più avanti. Se ho capito giusto, comunque vi lascerò comunque nel primo commento in alto, maggiori informazioni. Allora, il primo qui, come vediamo, è la maschera di Shake, che è sbloccabile tramite l'amiibo di Shake, della serie di Super Smash Bros. Scansionando l'amiibo di Revali, troviamo l'elmo sacro di Medoh, che è questo qui. Con l'amiibo di Daruk, troviamo l'elmo sacro di Rodania. Con l'amiibo di Mipha troviamo l'elmo sacro di Ruta. Con l'amiibo di Orbosa troviamo l'elmo sacro di Naboris. Con l'amiibo Link Skyward World della serie del trentesimo anniversario, troviamo il set del cielo. Come vi ho detto, non ce l'ho, quindi questo è il set visto da Breath of the Wild, ma è identico, non cambia niente. Con l'amiibo di Link 8-bit della serie del trentesimo anniversario, troviamo il set delle origini. Con l'amiibo di Ocarina of Time del trentesimo anniversario, oppure anche di Young Link di Super Smash Bros, troviamo il set dell'eroe del tempo. Con l'amiibo di Link Wind Waker del trentesimo anniversario, oppure con l'amiibo di Toon Link di Super Smash, troviamo il set eroe dei venti. Il set del Crepuscolo si sblocca invece con l'amiibo di Link di Twilight Prince del trentesimo anniversario, oppure con l'amiibo di Link della serie di Super Smash Bros. Il secondo più bello, a mio parere ovviamente, è il set fuori divina, sbloccabile con l'amiibo di Link di Majora's Mask del trentesimo anniversario, e il set definitivo, a mio avviso, è il set del risveglio, sbloccabile con l'amiibo di Link di Link's Awakening della Switch. Questo è fantastico. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi rimando a un prossimo video.